per farli innamorare. Quando soffriamo per amore cerchiamo di capire come fare a usare questo tipo di sofferenza che viviamo per coinvolgere, per far innamorare la persona che ci interessa. Cerchiamo di cogliere quelli che sono questi meccanismi, questi meccanismi di innamoramento che possono in qualche modo, diciamo, questi meccanismi di innamoramento che possono in qualche modo coinvolgerci, farci innamorare e questo è veramente molto molto importante. Allora che cos'è intanto, però dobbiamo dire che cos'è intanto la sofferenza per amore? Beh intanto dobbiamo tenere presente questo che secondo me perlomeno vale detto se soffri non è amore. Salutiamo anche Mr. X, Antonio, Mr. X. Se soffri non è amore perché ogni volta che soffri praticamente tu stai vivendo qualcosa che è antitetico all'amore. È ovvio che c'è da dire questo, no? Che ci sono due tipi, due tipologie di sofferenze. Una, salutiamo anche Maria Rosa, un tipo di sofferenza. Quali sono i due motivi, diciamo, di sofferenza per amore, i due motivi fondamentali? Beh il primo è quello che tu non riesci a conquistare da persona che vorresti conquistare e allora soffri. Alcune persone soffrono, poi cercheremo di capire. Tu ami tanto Francesca, ami tanto Francesca, ma non riesci a conquistare Francesca, ami tanto Mario, quel Mario, ma non riesci a conquistare Mario e quindi questo ti fa soffrire, ti fa entrare in uno stato di sofferenza. Ovviamente, ovviamente, questo è un tipo di sofferenza, ma poi si soffre anche per altri motivi. Si soffre anche, ad esempio, per il motivo che tu non riesci invece a liberarti della persona della quale ti vorresti liberare. Cioè, tu continui a stare con chi, diciamo, a livello logico vorresti chiudere la relazione. E quindi, praticamente, sì, conquisti che non vorresti desiderare. Possiedi chi non vorresti possedere, fondamentalmente. Possiedi chi non ami. E perché questi sono le due tipi di sofferenza. Ci sono persone che si agganciano su chi desiderano e non riescono a possedere. E persone che si agganciano su chi possiedono e non riescono a desiderare. Che è esattamente il contrario. Non ti è mai capitato di possedere qualcuno che non riesci a desiderare. Oppure non riuscire a liberarti, diciamo, di qualcuno di cui vorresti liberarti. Sono le due, diciamo, modalità di sofferenza vere e proprie. E questo capita per quale motivo? Beh, questo capita per tanti motivi. Salutiamo Niki. Capita per tanti motivi. Il primo motivo è dovuto al nostro imprinting. Spesso viviamo degli imprinting che non sappiamo governare. Ora, però, ad esempio, le persone che hanno sofferto da bambini perché gli veniva bloccato il desiderio, no? Ci sono dei bambini che soffrono perché, da bambini piccoli, quindi appena nati, non hanno fame e la mamma li vuole dar da mangiare. Non hanno sete e li dà da bere. Non hanno fame e li dà da mangiare. Quindi gli imprinting determinano il tipo di sofferenza per amore che andremo a vivere. Perché questa tipologia, ad esempio, poi si aggancerà su un forte desiderio, cioè si innamorerà di chi desidera e non riesce a possedere. Questo è il vero paradosso dell'innamoramento, no? Ad esempio, quanti di voi si sono innamorati di chi non erano disponibili nei loro confronti? Quanti. Anziché innamorarti di chi era disponibile, ti innamori di chi non era disponibile. O quanti di voi si sono innamorate o innamorati di chi, diciamo, nonostante ti somministrasse, diciamo, nonostante ti somministrasse tensioni, tu non riesci a chiudere, non riesci a lasciarlo. Eh, sarete stati. Io ho sentito persone che sono stati anche anni in relazione, ad esempio, con uomini sposati, no? Eh, quante sono rimaste in relazione con uomini sposati che sapevano benissimo che avrebbero dovuto lasciare, sapevano benissimo che li prendevano per il culo, lo sapevano benissimo che li prendevano per il culo. È importante questo, eppure non riuscivano a lasciarlo, non riuscivano a lasciarlo e rimanevano, non riescono a lasciarlo e continuano a nutrirsi di speranza. La speranza che le cose possano cambiare, la speranza che le cose possono andare per il verso giusto, la speranza di poter essere amati. Questa è una speranza vana, eppure, diciamo, eppure questo è un punto fondamentale. Dice purtroppo la nostra Rosi, no? Io ho avuto al grande futuro di innamorarmi ricambiate. Ecco, però, eh, non è questo, questo è un altro problema, perché adesso continuo a amare una persona che non c'è più. Ecco, questa è un'altra cosa, no? Sono le persone che si agganciano ancora fortemente sul desiderio. Chi ama, chi è morto. Cioè, è morto, ma continua ad amarlo. E continua a vivere nella speranza che succeda qualcosa che non potrà mai succedere, perché, come dire, eh, chi può resuscitare e ritornare? Nessuno, perlomeno in questa vita, in questa forma. Poi magari potrà tornare sicuramente in altre vite, in altre forme. Ma, e quindi, amare un ideale è proprio il massimo del condizionarsi sul desiderio. È il massimo del condizionarsi sul desiderio. Cioè, io desidero ciò che non posso possedere. E in questo caso è un qualcosa che non si potrà possedere mai più, perché è una persona che è morta. E come fai a possederla? Quindi ti innamori soltanto di un desiderio. Di un desiderio che, comunque, non, non potrà mai accadere. Ecco, poi leggo delle cose. Io non dovrei rispondere a Maria Rosa Paladino perché dovresti fare una donazione al canale, o dovreste abbonarti al canale. Anzi, io vi suggerisco a tutti di, diciamo, abbonarvi al canale. Anzi, vi suggerisco di fare l'abbonamento base, così potrete seguire tutti i miei seminari, che potrebbero essere molto importanti. Quando uno dice ti innamori di chi ti fa innamorare, dice un'eresia. È un'eresia. Perché nessuno ti può far innamorare. Nessuno ti può far innamorare. Sei tu che sono i tuoi bisogni che ti spingono a innamorarti. Certo che gli sta stretto. Gli sta stretto perché non è lui che ti ha fatto innamorare. Sei tu che come una malgacozza, che come una patella sullo scoglio ti sei aggrappata. Non esiste che uno ti possa far innamorare. Non esiste che uno ti possa far innamorare. Siamo noi che ci innamoriamo. Ci innamoriamo e ci aggrappiamo. È ovvio che gli stiamo stretti, ma non è lui che ti ha fatto innamorare. Siamo noi che proiettiamo. Pensate questa cosa aberrante, no? Che tu dici, lui mi ha fatto innamorare e poi quando io mi sono innamorata mi ha mandato a cagare. Quando io mi sono innamorata mi ha mandato a cagare. E questo è una cosa aberrante. È una cosa aberrante. Noi non possiamo innamorarci, non possiamo assolutamente innamorarci di questa tipologia di persone. Non ci possiamo assolutamente innamorare di questa tipologia di persone. Lo capite o no che non ci possiamo innamorare di questa tipologia di persone? Lo capite o no che non ci possiamo innamorare di questa tipologia di persone? Perché questo è il nostro problema. Nessuno ci può far innamorare se noi non siamo bisognosi. Quindi devi superare i tuoi bisogni. E quindi questa sofferenza che vivi per amore, che è una sofferenza forte, è una sofferenza potente, è una sofferenza che attanaglia la tua vita, è una sofferenza che distrugge la tua vita, è una sofferenza che ti rovina la vita. Perché questa sofferenza ti rovina davvero la vita? Ti rovina fortemente la vita. Tu devi imparare a utilizzarla. A utilizzarla per, tra virgolette, far innamorare. Perché questa sofferenza non devi cercare di trasformarla in qualche cosa. Devi semplicemente viverla e proiettarla su un'altra persona. E nel momento in cui te la proietti su un'altra persona e ti focalizzi totalmente su un'altra persona, automaticamente perderai completamente i contatti con la prima persona. La prima persona non esisterà più, non sarà più nulla per te. La prima persona sparerà totalmente dalla tua ombra. La prima persona non avrà più nessun valore se tu direzioni d'altra parte queste energie. E allora, e allora posso garantirti una cosa, che capiterà un evento fantastico. Capiterà un evento che neanche la tua più fervida immaginazione si può rendere conto. Neanche la tua più fervida immaginazione si può rendere conto di questa cosa straordinaria che capiterà. E qual è la cosa straordinaria che capiterà? La cosa straordinaria che capiterà è che lui, che prima non ti amava, inizierà a coinvolgersi. Perché ha paura di perderti. Perché tu farai una cosa molto importante in questo modo. Invertirai la clessidra. Farai sì che questa clessidra si inverta totalmente. Cosa vuol dire invertire la clessidra? Invertire la clessidra vuol dire che quell'energia che prima riceveva è come il cane, diciamo, che aveva un osso a cui vai a sottrarre quell'osso. Nel momento in cui tu vai a sottrarre l'osso, si innesca in quella persona, a meno che non sia una persona che sia in grado di gestire totalmente le sue emozioni, ma ne dubito. Perché posso garantirti che sono veramente poche le persone che sanno gestire queste cose. Soprattutto sono veramente poche le persone, sono veramente poche le persone che hanno, sono veramente poche le persone che hanno la capacità, che hanno la capacità di gestire che cosa? Che hanno la capacità di gestire le emozioni dell'abbandono. Sono veramente poche le persone che quando gli fai fare una doccia scozzese non si innamorano. E questo è un altro punto da prendere in considerazione, un altro punto fondamentale, e devi tenerlo presente. Devi tenere presente questa cosa. È davvero importante. Adesso queste persone avranno paura dei sentimenti, avranno paura delle emozioni, perché si renderanno conto che le emozioni non riescono a governarle, si renderanno conto che le emozioni non riescono a gestirle. E questa è la vera forza che tu puoi avere. I sentimenti, diciamo, e le emozioni non controllate, sono in grado di ristrutturare completamente la percezione della loro vita. E allora persone che prima non erano innamorate di te, successivamente, successivamente, diciamo, successivamente si innamorerà di te, perché l'amore non gestito, e tu puoi avere la forza di far innamorare questa persona in modo non gestito, cioè gli somministrerai uno tsunami emotivo, gli pianterai praticamente una bomba atomica emotiva, e loro non saranno in grado di gestirla, perché metterai in atto un'interruzione di schema drastica, no? Fino a ieri ero disponibile, fino a ieri facevo così, oggi faccio cosa? E tra l'altro questa energia di sofferenza, questa energia di sofferenza, devi anche utilizzarla per te stessa o per te stesso, devi anche, diciamo, sviluppare la tua bellezza, il tuo carisma, il miglioramento in se stessi, e allora l'energia della sofferenza per amore diventerà, si trasmuterà come l'alchimista, diciamo, gli alchimisti nelle fucine, nelle fucine degli alchimisti volevano trasformare il metallo vile, in metallo nobile, tu puoi trasformare nella fucina della tua mente, nella fucina delle tue emozioni, puoi trasformare l'energia negativa di sofferenza in energia positiva di vincita, in energia positiva di successo, in energia positiva di amore, questo riesci a farlo, e questo è un qualcosa di importante, quindi quando, tra virgolette, tu riesci a fare questo, farai veramente un salto quantico nell'innamoramento, salutiamo anche Michela, farai veramente un salto quantico, però ci devi mettere l'energia, e tra l'altro vedrai che quale sarà l'effetto collaterale di tutto questo, che anche quella persona che prima non era innamorata di te, inizierà a innamorarsi di te, inizierà a innamorarsi di te fondamentalmente, sono tutte cose che sono difficili da capire, però noi comunichiamo non soltanto a livello logico, non soltanto a livello emozionale, ma comunichiamo anche a livello energetico, e quando dentro di te scatterà un meccanismo, per cui quella persona che prima ti interessava tanto, ti diventa indifferente, perché questo sarà capitato a tutti, no? Se voi pensate all'ultima volta che eravate follemente innamorati di qualcuno, provate in questo momento, mentre ascoltate il suono della mia voce, a pensare all'ultima volta in cui vi siete innamorati follemente. Ecco, probabilmente se riuscite veramente ad andare in quel tempo e in quello spazio, a regredire in quel tempo e in quello spazio, vi renderete conto che in quel tempo là pensavate di non poter fare a meno di questa persona, in quel tempo là pensavate di non poter uscire, di non poterne più fare a meno, ma oggi magari che non siete più innamorati di questa persona, non siete più coinvolti, vi sembra una cosa strana, no? Vi sembra un agire strano. E questo è quello che succederà quando voi, nella persona che magari vi coinvolge in questo momento, vi potrà coinvolgere in futuro, perché noi dobbiamo essere pronti, essere pronti per affrontare anche situazioni future, avremo una grande chance, avremo una grande possibilità, avremo la possibilità di diventare vincenti in amore, cioè superare l'oggetto d'amore. Che poi l'oggetto d'amore, l'oggetto d'amore è, diciamo, l'oggetto d'amore che cos'è? L'oggetto d'amore è soltanto un duplicato, no? Per un uomo spesso il primo oggetto d'amore è stata la madre, ed ha continuato a essere la madre. Per una donna è stata inizialmente la madre, successivamente il padre, quindi una donna ha due visioni, e poi tutti gli altri fondamentalmente sono dei duplicati, dei duplicati di questa prima triade, diciamo, no? Che viene detta triade originaria, poi si crea una triade reale, diciamo, una triade relativa fondamentalmente. Quindi questo però genera spesso equazione a ripetere. L'equazione a ripetere è la speranza di ottenere quello che in passato non hai ottenuto, cioè la rivincita della partita del cuore. Prima avevi perso la partita del cuore, adesso vuoi avere la rivincita. Però, e quindi se non vinci, e tu analogicamente ti agganci proprio a persone che non ti fanno vincere, soffri. E soffri ogni volta che, appunto, tu vorresti conquistare una persona. Quando parlo di conquistare una persona, in realtà non parlo proprio di conquistare solo sessualmente, magari di ottenere qualche cosa di più da questa persona rispetto a quello che tu vorresti, no? Perché, ad esempio, non è che un uomo magari sposato non ti dà nulla, ma ti dà molto meno di quanto tu vorresti. Ti dà esattamente molto meno di quanto tu vorresti, no? E allora la tua speranza, che è quella che ti fa soffrire, che perché non viene mai realizzata, è sperare che lui possa lasciare la moglie. Salutiamo Light, salutiamo Vuti. La speranza è che lui possa lasciare la moglie. Ma siccome la moglie non la lascerà, oppure siccome questa persona che magari c'è in testa un'altra non mollerà la presa, e tu alla fine sarai completamente vinculato, sarai completamente destrutturato. E questo non ti porterà fortuna, eh? Non ti porterà fortuna perché se tu non fai quello che dico io, cioè quando lo dico io, cioè non utilizzi questa energia per dedicarla a te stesso, per dedicarla a nuove conquiste, per dedicarla a nuove situazioni, se tu non la utilizzi e la fai implodere sempre, rimuginando, qual è il meccanismo che ti fa rimanere imploso nella sofferenza? È la nostra parte riflessiva, perché noi non abbiamo soltanto una parte logica, una parte emotiva, abbiamo anche una parte riflessiva, un po' la nostra coscienza. E quando inizi a rimuginare, inizi a pensare, eh ma come mai non lascia la moglie? Ma perché? Ma io voglio che nasci la moglie. Oppure, eh ma perché fa questo? Eh ma perché fa quello? Eh ma perché non mi dà qualche cosa? Eh ma io adesso spero, eh ma adesso sono sicuro che prima o poi mi amerà, perché io sono certo che io lo amo tanto e sicuramente mi amerà tanto anche lui. Ecco tutti questi discorsi inutili, sono dei discorsi inutili, che non ti portano niente di buono, ti portano solo sfiga, ti portano solo a pensare delle cose che non potranno mai accadere, quindi tu avrai un'esigenza, ogni potente quasi, una speranza, ogni potente di poterlo coinvolgere, di poterlo far innamorare. Mentre invece a quella persona lì, fin tanto che tu ti comporti in questo modo, non passerà nemmeno per l'anticamera del cervello di darti qualche cosa di più, non gli capiterà neanche, non lo penserà neanche, anzi tu verrai data per scontata, sarai semplicemente, quando lo stresserai un po' di più, sarai semplicemente una rompicoglioni, sarai semplicemente una persona, cagacazzo, sarai semplicemente, e quindi ti darà sempre di meno, più tu lo cercherai, più tu ti aggrapperai a lui, come le patelle sullo scoglio, più meno riceverai, e più soffrirai, perché meno ti dà, più soffri, perché si creerà, quindi un ciclo nefasto, un patto scellerato con la sofferenza, fondamentalmente, come se tu facessi, salutiamo giusi, un patto scellerato con la sofferenza, più soffri, più soffrirai, più pensi di soffrire, più la sofferenza diventerà forte, e questo è un evento, che ancora si manifesta, sempre di più, poi, come dice la nostra ghinettina, ancora peggio, avere a che fare con un uomo sposato, e dire, ma lui ama me, è certo, queste sono le aberrazioni, della sfera logico-razionale, la sfera logico-razionale, mette in atto anche delle aberrazioni, dice, lui sta con la moglie, ma ama me, oppure, lui è narcisista, mi piglia botte, ma ama me, lui è un sadico, che mi tortura, ma ama me, no, questo non è così, non ti ama, non ti ama, ama la moglie, se sta con la moglie, ama la moglie, e dice, no, ma la moglie non la ama, perché la tradisce, no, ama me, con la moglie ci sta solo qua, ci sta solo là, assolutamente no, ama la moglie, poi certo che la tradisce, ma per un maschio, per un uomo, il tradimento fisico, perché con te, tu rappresenterai semplicemente, una svuota pallina da tennis, il tradimento fisico, non ha nessuna valenza, il tradimento fisico, è semplicemente un qualcosa, che non ha nessun, nessuna ragione, di, diciamo, di, di legare l'innamoramento, pensate a tutte le signorine, le passeggiatrici, che ci sono per strada, e a tutti gli uomini sposati, che vanno con le passeggiatrici, no, ci sarà pieno, ma non è che, se vanno con le passeggiatrici, è perché non amano la moglie, e amano la passeggiatrice, perché amiamo la passeggiatrice, non è assolutamente così, rappresenta semplicemente, una trasgressione, rappresenta semplicemente, uno sfogo, rappresenta semplicemente, un, esatto, picchia più mecca la moglie, rappresenta semplicemente, un modo di sfogarsi, e quindi, questa è una più illusione, no, sperare che ti ami, però, l'aberrazione, nasce proprio dal meccanismo, l'aberrazione, nasce proprio dal meccanismo, di che cosa? Nasce proprio dal meccanismo, della dissonanza cognitiva, no, siccome tu, a livello logico, altrimenti ti sputeresti in faccia, perché se tu pensassi, anche a livello logico, io sto con questo, ma non gliene frega un cazzo di me, mi tratta male, mi sputa in faccia, mi prende per il culo, non mi si metterà mai con me, non mi vorrà neanche, come compagno di processione, non mi ama, si svuota, e tu continui ad andarci, e beh, non potresti, la parte logica, non accetta tutto questo, no, la parte logica, per la quale 2 più 2 fa 4, ti farebbe passare, per pazza, fondamentalmente, ti farebbe passare, per pazza, eh, lo so, a Torino c'è pieno di passeggiatrici, esatto, a Torino passeggiano, mi ricordo, quando stavo a Torino, ce n'erano, corso, come si chiama, corso massimo, tra l'altro, in corso massimo, c'era pieno, corso massimo da zeglio, però, c'era pieno, ma anche lì, per andare a Stupinigi, lì, corso Unione Sovietica, insomma, dappertutto, e quindi, questo è un punto, la pellerina, la pellerina, e quindi, questo è un punto, e quindi, in corso massimo, sì, e quindi, questo è un punto fondamentale, eh, io sono stato più di 15 anni a Torino, anzi, sì, una quindicina d'anni sono stato a Torino, quindi conosco, conosco, e quindi, questo è un po', eh, un po' il concetto di fondo, no? Bisogna fare attenzione, bisogna fare attenzione, bisogna fare attenzione, perché, eh, perché, diciamo, perché le cose, eh, possano andare diversamente, tu devi, invece, imparare questa cosa, che ti consentirà, di coinvolgere quella persona, ma non soltanto, di coinvolgere quella persona, che ti interessa, anche di, eh, decoinvolgerti te, perché il massimo è che poi, tu non sarai più coinvolto, soltiamo Barbara, tu non sarai più coinvolta, Barbara Leva, anche lei di Torino, brava Barbara, tu non sarai più coinvolta, ma si coinvolgeranno altre persone, nel frattempo ti ricordo, che se vuoi seguire i miei seminari, che per adesso sono solo online, poi vedremo, devi, eh, abbonarti al canale, con l'abbonamento base, abbonandoti con l'abbonamento base a questo canale, potrai seguire tutti i miei seminari, eh, oppure, se vuoi fare una piccola donazione al canale, per dare un sostegno, puoi cliccare sul tastino col dollarino, e dare un sostegno al canale, ecco, queste sono le cose, più importanti che devi fare, imparare a sganciarti, da queste situazioni, è veramente basilare, è veramente importante, è molto importante, perché, eh, chiaramente avrai una possibilità, tra l'altro ricordo anche gli altri due appuntamenti, che ci saranno sul canale, alle 21 ci sarà la premiere, quindi con la chat dal vivo, quindi alle 21 vi aspetto tutti su questo canale, con la premiere, potrete chattare, chi fosse interessato, c'è un altro video, e poi alle 22 ci sarà la musica rilassante, eh, quindi chi volesse, alle 22 ci sarà addirittura un'oretta e mezza, mi sembra, di musica, che potrete sentire, divertirvi, chattare tra voi, conoscervi, insomma, fare un po' di conoscenza, e quindi, queste cose, queste, queste capacità qua, nascono proprio dei nostri atti di coraggio, che dobbiamo essere in grado, di fare, no, sviluppare degli atti di coraggio, è qualcosa che possiamo mettere in atto, è qualcosa che possiamo fare, è qualcosa che ci può dare questa massima soddisfazione, soltanto noi abbiamo la capacità di trascendere, di guardare oltre, e se riusciamo a farlo, sarà veramente una rivincita, io posso garantirvi che se voi riuscirete a fare questo, come si fa quindi a trasmutare la sofferenza? Beh, intanto non dobbiamo rimuginare, il punto fondamentale, quando questa persona non ti dà quello che vuoi, non cercare di giustificarlo, devi fare quello che viene detto atto di ribellione, tu probabilmente l'atto di ribellione, chi resta vincolato in queste situazioni, non ha fatto l'atto di ribellione a suo tempo, quanti di voi hanno subito le angherie dei genitori? quanti di voi hanno subito da adolescenti, ad esempio, le angherie dei genitori, senza mettere in atto un atto di ribellione? Che magari i genitori lo facevano a buon fine, vi dicevano, non devi mangiare il gelato, per dire, che uno però a quell'età lì lo vive magari come un'angheria, e se avete subito le angherie, senza mettere in atto l'atto di ribellione, tenderete da adulti, a subire le angherie, tra virgolette, subire le angherie di altre persone, senza poterne uscire fuori, senza poterne venire fuori, e questo succede anche frequentemente, quindi invece voi dovete fare oggi quell'atto di ribellione che non avete fatto ieri, quindi vivervi la sofferenza, perché la sofferenza comunque va vissuta, dobbiamo interagire con la sofferenza, dobbiamo avere la forza di viverla, avere la forza di sentirla, avere la forza di viverla fino in fondo, e poi di dedicare queste energie in modo rituale, quasi come si facesse un atto cerimoniale, sì certo, poi uno da bambino non poteva ribellarsi, certo, uno da bambino non si poteva ribellare, però quell'atto di ribellione ti resta sempre dentro, e devi imparare poi a farlo da adulto, attraverso un atto cerimoniale diciamo, cioè attraverso quest'atto cerimoniale, attraverso quest'atto cerimoniale tu potrai, diciamo, mettere in atto quel lato di ribellione che prima non avevi messo in atto, e riuscire diciamo a farlo, a mettere in atto quest'atto di ribellione, ti darà una grande possibilità, ti darà la possibilità veramente di farti amare nuovamente, e di canalizzare in modo positivo le tue energie, perché la canalizzazione positiva delle energie, diciamo che poi è la cosa più importante, la cosa fondamentale che tu devi imparare a fare, e per questo ci vuole un atto di coraggio, un atto di coraggio per cui il vaffanculo a quella persona ti consente di avere una visione più coerente della vita, avere una visione più coerente della realtà, avere una vera visione coerente della realtà, e salutiamo anche i cicci, ecco quindi ricordo a tutti quindi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella a chi non fosse ancora iscritto, di abbonarvi al canale, con l'abbonamento base, con l'abbonamento base, tu potrai diciamo seguire tutti i miei seminari, quindi ti suggerisco di, diciamo, ti suggerisco con l'abbonamento base, di seguire i miei seminari che sono a lunedì o giovedì, e potranno esserti veramente utili, insomma fai l'abbonamento base, e poi ti suggerisco ancora una cosa, di poter, se vuoi fare una donazione, fare una donazione, e ti suggerisco di fermarti sul canale, perché alle 21 ci sarà la premiere con chat in diretta, e alle 22 ci sarà la musica rilassante, sempre con la chat in diretta, quindi questo è molto importante, quindi detto questo, fate quest'atto di coraggio, vedrete che la vostra vita si trasformerà, la vostra vita da negativa diventerà positiva, la vostra vita diventerà veramente qualcosa di bello, perché farete innamorare non soltanto nuove persone, ma farete innamorare, coinvolgerete anche quella persona che vi dava di meno, quella persona che vi dava poco, quella persona che non vi dava tanto. Bene.